Amici di Milan.soccer, eccoci, buongiorno, buona domenica a tutti voi, buona domenica rosso-nera, ben ritrovati su questo canale, benvenuti a tutti coloro che sono nuovi, vi ricordo come sempre un piccolissimo sforzo, qui sotto potete iscrivervi al canale, è gratuito, è tutto gratuito, e magari un like, un pollicione a questo video. Dicevo buona domenica, oggi è una domenica speciale, come sempre, quando giocano il Milan, io la domenica il Milan sono, diciamo così, un binomio che mi fa star bene, certo, non questo Milan, non in questo momento storico, ieri siamo stati tanto insieme, abbiamo parlato un po' di tutto, ma tra i tantissimi commenti che sono arrivati, uno in particolare, uno, un tipo, perché ne sono arrivati tantissimi, riguarda proprio la questione PIF, avete visto la copertina, ora ne parleremo approfonditamente, intanto fatemi tornare sulla questione di campo, perché il Milan oggi ha l'opportunità di chiudere la stagione definitivamente, secondo posto, Supercoppa Final Four, beh, che cosa dire, ieri ho visto un Pioli in conferenza stampa, abbastanza, diciamo, motivato, è un sorriso sarcastico, ironico, perché non è scontato il secondo posto, è un grande obiettivo, non contatterò, non mi sentirò con nessuno, perché fino a quando io sarò nel Milan, ecco lì mi ha dato subito l'impressione che lui si voglia prendere un anno sabatico, se il Milan dovesse cambiare, come dunque sembra, in questo momento in pole position, c'è con Seissau, perché ieri lo abbiamo detto, Mendes vorrebbe lui sulla panchina del Milan, portoghese, io lo definisco un po' un fino al confine, in versione portoghese, perché poi alla fine il Porto in questi anni ha vinto, ha vinto all'interno dei propri confini, insomma, non mi entusiasma, io non so cosa ne pensate voi, rispetto a Lopeteghi devo dire che caratterialmente mi dà qualche garanzia in più, però se devo dirvi che questo è un profilo che mi entusiasma, sicuramente no, anche perché il suo trascorso, certo direte voi, figuriamoci Conte, avete ragione, anche Pioli avete ragione, però insomma, se proprio dobbiamo trovare una soluzione, e ho saputo anche il budget a disposizione per lo stipendio per l'allenatore, quindi probabilmente anche il fatto che noi oggi stiamo partendo per andare a San Siro per la protesta civile, educata, però sempre protesta, beh, c'è poco da protestare, quando ti dai un budget intorno ai 3 milioni di euro per l'allenatore, è chiaro che puoi pretendere poco, sarà un altro anno complicato, questo ve lo voglio dire, io non voglio essere assolutamente pessimista e negativo, anzi voglio essere ottimista, speriamo di trovare comunque una quadratura del cerchio. No, non è vero, Antonio Conte non è andato più vicino, non è andato più lontano, non è successo nulla di nuovo in sostanza ieri, e a proposito di non è successo nulla di nuovo ieri, arrivo alla questione relativa alla notizia PIF, poi parleremo di campo nelle prossime ore, insomma faremo una diretta da San Siro per farvi vedere appunto quella che è la protesta, il clima, cercheremo di intervistare qualcuno, insomma staremo insieme e lo faremo veramente molto volentieri, speriamo di avervi con noi. Stavo guardando attentamente la questione del Fondo Saudita, allora perché è uscita fuori la notizia del Fondo Saudita? Perché quando c'è stata l'ispezione della Guardia di Finanza, beh c'è un documento e da lì non si è mosso mai nessuno, in cui uno dei finanziatori, il Fondo PIF, avrebbe interesse ad acquistare il 41,7% delle quote del Milan. Il documento in questione è denominato AC Milan Investor Presentation ed era destinato ad uso interno, poi è uscita la questione della talpa. Gli investigatori se ne sono interessati perché la quota passerebbe di mano, come si legge nel documento stesso, tramite il riacquisto dell'80% del vendor Loan di 487.500, 487.500.000 euro. Ecco, da quel momento noi abbiamo sempre detto che bisogna aspettare la fine delle indagini per capire se dunque si concluderà questa che è un'attività di mediazione e se vogliamo anche di capacità manageriale di alto livello. Poi è uscito fuori D'Agospia. Io onestamente mi sono domandato ma forse mi è sfuggito qualcosa perché onestamente che voi mi scriviate D'Agospia ha detto, D'Agospia ha detto, io ho tanto rispetto per D'Agostino, per D'Agospia, però poi vado a vedere un approfondimento dell'articolo. Dago Report, pif, puff, è sparito, il fondo arabo si ritira dalla trattativa per subentrare a Elliot e rilevare il prestito di 550 milioni che il fondo Singer aveva garantito a Gerry Cardinale per acquisire il Milan. E la vittoria di Paolo Scarone e Giorgio Furlani che così rimangono avvitati alla loro poltrona. Allora, signori, io, fine, cioè non, pif, puff, è sparito, questo l'abbiamo detto, il fondo arabo si è ritirato e la vittoria di Paolo Scarone. È finita e queste sono le frasi dette da pif, da puff, sono le frasi dette da D'Agospia. Io ho fatto ricerche, ho chiesto, ho chiamato, adesso voglio dire, mi rimetto alla volontà della Corte, cioè ma ragazzi, ma davvero? Cioè ieri non è successo niente, ma nulla, né nei giorni scorsi. Bisogna aspettare la fine delle indagini. C'è un documento chiaro? Ora, se qualcuno dice il contrario, partiamo da un presupposto, c'è un dato certo, c'è un documento, fine. E non è che qualcuno conosce pif, qualcuno conosce puff, qualcuno conosce... C'è un documento in mano all'ispettorato, agli ispettori, chiedo scusa, alla Guardia di Finanza, al Tribunale, alla Procura, non importa chi. Bisogna aspettare la fine delle indagini. Ora, se D'Agospia, avendo successo anche in termini di visibilità, dice pif, puff, e questo ha fatto scatenare... Io non lo so quanti messaggi ho ricevuto. E allora mi sono fermato, ero a un pranzo importante, mi sono fermato e per due ore ho fatto solo quello. Poi, tutti quanti... Poi, ripeto, mi sono messo a leggere su articoli, sono andato su giornali arabi, sono andato a vedere blog di persone che... Insomma, mi sono fatto una lista, vedete? Qui c'ho una lista di cose che riguardano eccetera eccetera e poi a un certo punto ho detto ma fammi leggere l'articolo di D'Agospia. Cioè, sulla base di cosa viene detto questo? Cioè, un sabato qualsiasi... Quindi, vabbè, ragazzi, facciamola breve. Allora, adesso, questa cosa è ferma al giorno dell'ispezione. E fino a quando non ci sarà finita l'ispezione, finiremo lì. Vedremo quello che succede. Intanto, andiamo a San Siro, venite con noi, andiamo. Il prossimo video sarà sempre pre-San Siro, poi faremo una diretta e poi faremo le conclusioni da San Siro. State con noi, iscrivetevi al canale, così, insomma, magari se succedono novità anche di pif che invece di puff fa paff, lo vedremo insieme. Ma state tranquilli che non è successo niente. Cioè, rimane tutto così come era l'altro giorno, ok? Un abbraccio, ciao!